Nonostante il carattere decisamente introverso, Giuseppe Bonomi, in mezzo al campo, sapeva farsi rispettare. Nato a Ranica nel 1913, cresce nell'Atalanta, con cui debutta in serie B. L'esperienza in nero-azzurro dura ben sette stagioni. In una di queste, però, è costretto a rimanere in box a causa di un grave infortunio. Nel 1938 lo acquista la Roma. Il primo anno in giallo-rosso non è da ricordare. Bonomi, infatti, fatica a trovare spazio, anche se riesce comunque a segnare tre reti. Una volta concluso il processo di ambientamento, però, diventa una pedina inamovibile a centrocampo. Ottimo recuperatore di palloni, recita un ruolo da protagonista nell'annata dello scudetto. Fa ritorno all'Atalanta per poi chiudere la carriera all'eco. Una volta appese le scarpette al chiodo, Giuseppe Bonomi cementerà il suo rapporto con la società aerobica.